Una comunicazione a distanza, ben fatta, è una comunicazione che sviluppa intelligenza collettiva. Se un capo non sviluppa intelligenza collettiva, il gruppo non lavorerà, non lavorerà bene. E intelligenza collettiva significa non solo condividere modi, condividere tempi, ma condividere anche una memoria transattiva per cui ognuno dei tuoi sa che quello che non sa lui, c'è qualcun altro che lo sa. Ecco che poi nasce un intreccio che non passa tutto attraverso il capo, ma diventa stellare. Perché la memoria transattiva è quella che consente di affrontare i problemi, e non solo la conoscenza dei problemi, ma la soluzione dei problemi, attingendo alle competenze diversificate che il gruppo ha. Grazie.